Dal 9 di gennaio, dalle ore 8 del 9 di gennaio, è possibile iscriversi alle scuole statali primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado sul sito del Ministero. L'iscrizione terminerà il 30 di gennaio alle ore 20. Quindi ricordo a tutti i genitori che intendono iscrivere i propri figli alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di effettuare al più presto l'iscrizione utilizzando il portale del Ministero. Per qualsiasi informazione, richiesta, per qualsiasi supporto, vi potete rivolgere all'assessorato, all'istruzione e alla famiglia del Comune di Napoli e mi raccomando soprattutto ai genitori dei bambini stranieri che risiedono nella città di Napoli. Le nostre scuole sono estremamente accoglienti e la scuola è un presidio culturale, è un presidio di legalità, è un presidio di crescita per i vostri figli. Quindi iscrivetevi con fiducia alle nostre scuole.